A che ora? Quando dobbiamo dire quando ci incontriamo con una persona, usiamo la preposizione articolata al con apostrofo femminile singolare e alle femminile plurale davanti al numero che indica l'ora A che ora ci vediamo? Ci vediamo al una e mezzo A che ora comincia il film? Il film comincia alle nove Attenzione! A mezzogiorno A mezzanotte Senza l'articolo Vediamo alcune espressioni utili In ritardo Sono in ritardo Il treno parte in ritardo In orario L'autobus arriva in orario Puntuale Io non arrivo mai puntuale agli appuntamenti Sono sempre in ritardo